Siamo nelle periferie di Utrecht appena fuori dal centro città siamo già stati qui in marzo con il nostro amico Gabriele non avevamo avuto fortuna perché era un periodo in cui non mangiavano proprio questi benedetti luci ma stavolta in perterriti ci riproviamo e speriamo di avere un pochino più di fortuna visto il periodo un pochino più sono così divertenti allegro ecco c'è il sole si sta bene sono 25 gradi magari collaborano un pochino di più vediamo mi dai per favore le esche questa la voglio quanto mi dai se faccio canestro non c'è stile as long as you don't put too much on it cosa fai disca? ecco qua bravo tu ecco 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 Oh, bello questo, bello, 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 bello. Oh, bello, 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 bello questo è spettacolare, è sempre lui secondo me ben dai? ah peccato cazzo, vabbè figo 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 questo qua è gomma, hai visto spettacolare? non è un po' Ok, ok, ok Grazie 83 Sì ma guarda questo qua Con l'esca che non pesa un cazzo Con la canna e la due non c'è tutto Guarda Questo è duro La coda La coda Un giant Madonna